Musica 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 Chi sono sti bufoni? Sono qui per picciotto Che ragazzo Cosa Inizia Cosa 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 son non abbiamo mai problemi con te, signore e anche con noi ma se vuoi iniziare ci saranno ci saranno molti persone morti in questo ruolo prima che si è finita quindi tu vedi a me stai a me stai a me stai a me e stai a me e tu vedi a me prima di fare e tu mi e tu vedi a me suon over some dispute with some inbred ex-slavers it ain't gotten nothing to do with any one of you had nothing to do with destroying the liquor business we was innocent bystanders and that which we were an innocent of well we we most surely were ignorant of twist words you lie E io credo che sia meglio di tutti gli altri. Te adoro! E' una ragazza! Angelo Bronco! Dutch Randerlin! Arthur Morton! Il piacere è mio! John Marce! Quindi, e mio amico ha il suo figlio? D'accordo, d'accordo! Non, ma è a do quando io prendo così, ovviamente. Ma... E quando io dormo, io sento qui, nelle viste. D'accordo! Non, non, non! Quindi, come questo? Tu performa un lavoro semplice per me, e ti prende il suo figlio. E' quello che è? Un paio di persone hanno preso a la gravera in questo cimitero. E' un paio per questo. E' un paio di questo caro. E' un paio di te! Non, non, ma è solo per diricare la morte ma senza pagare 3 tributi. E' un paio di me? 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 ma mia mamma salute salute non posso non arrivare così non è non è non è non è non è non è la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.